Abbiamo visto che il sistema migliore anche per dare meno fastidio possibile a tutti coloro che fino ad oggi ci hanno aiutato è quello di cercare questa soluzione, cioè una lotteria con un biglietto che costi 2,50 euro sicuramente è ben diverso da un biglietto teatrale o che dir si voglia da 10-15 euro. La Pescara Calcio ci è vicina come ci è stato in precedenza, abbiamo iniziato già da un po' di anni, prima con un contributo per le borse di studio per 14.000 euro, poi con una lotteria dove abbiamo messo in palio un'autovettura grazie sempre alla Pescara Calcio, poi la Pescara Calcio è intervenuta ad aprile quando abbiamo inaugurato il nuovo The Hospital con un contributo di 4.400 euro, oggi la Pescara Calcio ci è ancora vicina perché il nostro grido di aiuto, se così lo possiamo definire, è stato raccolto dalla Presidenza, da Daniele Sebastiani e dalla Pescara Calcio per continuare a darci quell'aiuto per poter raccogliere quei fondi che ci permettono di portare avanti sia il progetto Trasporto Casa Ospedale Casa che la gestione della stessa casa alloggio, che lo ribadisco, sono servizi che noi offriamo gratuitamente a tutti coloro che hanno necessità purtroppo di frequentare la struttura di oncoematologia pediatrica e ribadisco un concetto per chi avesse le orecchie dure o gli occhi un po' foderati che a Pescara esiste il centro di oncoematologia pediatrica che ha una rilevanza non soltanto regionale ma è riconosciuta dall'Aieop, quindi a Pescara esiste il centro di oncoematologia pediatrica. Massimo, il binomio sport-solidarietà è un binomio sempre più vincente? Ma è sempre più vincente, c'è tanta solidarietà da parte dello sport, lo vediamo anche con il final AIDS di questi giorni dove siamo stati per l'intensima volta invitati a partecipare per quel segmento che è della solidarietà quindi un grazie anche a loro, ma c'è anche Acqua e Sapone che c'è vicino, c'è l'amatori basket di Pescara ci sono tante altre realtà che adesso mi sfuggono ma che sono vicino a noi, ci telefonano, ci vengono a trovare fanno raccolte fondi, vogliono vedere che cosa facciamo, ci stanno vicini.